Buongiorno a tutti, sono Stefano Treconi. Quando giocavo alla Juve e in nazionale, mi sono sempre detto, dovrebbero inventare un gioco a cui tutti possono giocare, anche in esperti. Lo hanno fatto, esordisce l'8 luglio, e qui ve lo presento con l'aiuto di qualche slide. Cos'è Gold Football Game? È un gioco di calcio virtuale, per divertirsi, vincere e poi anche diventare presidenti del proprio team. Per chi è? Per chiunque, di qualunque età o sesso, senza alcun bisogno di esperienza o capacità di gioco. Cosa ottieni se vinci? La moneta virtuale più preziosa, i Gold Coin. Con il capitale cumulato potrai comprarti ciò che vuoi, dal nostro ricchissimo sito dove trovi di tutto, dall'iPad al viaggio esotico all'auto di lusso per una settimana per te. Che altro potrai fare con Gold Coin? Nella seconda fase potrai avere una tua squadra proprietaria e rafforzarla, comprando e vendendo giocatori, attrezzature sportive virtuali e quanto altro ancora, per vincere sempre di più. Man mano che il gioco si sviluppa, i tuoi Gold Coin diventeranno come un vero capitale. Come si gioca? Avrai sempre una squadra virtuale. Dalla seconda fase in avanti sarà sempre la tua, che si affronta con un altro in un torneo con montepremi di Gold Coins. I giocatori si muovono in automatico, cambiando schemi di gioco infinite volte, il tutto proprio come in una partita vera. In ogni partita tiri, falli, contrasti, gol e tu tifi per la tua squadra. Se vinci, passi il turno. Chi determina il risultato? È sempre casuale e secondo della partita giocata della tua squadra in campo, 1x2 come nel vero calcio. È il PC a muovere i giocatori, passare palla, dribblare, segnare. Il pubblico affolla sempre gli stadi, tifando ad alta voce per la tua squadra. Perché l'8 luglio parte la prima fase? È la fase di training per tutti, perché nella seconda parte dell'anno, a inizio la seconda, ancora più entusiasmante. Come si diffonderà? Gold Football Game dall'8 luglio è il regalo per tutti i clienti, partecipanti al mondo social free life. Sviluppare clienti è un'attività remunerativa che ogni persona può fare part-time, interamente online, senza mai dover vendere nulla a nessuno. Non serve alcuna esperienza. Puoi trovare tutte le informazioni nel sito allegato a questa presentazione di Social Free Life Sharing. Vuoi essere tra i primi? Gold Football Game inizia l'8 luglio, ma il programma Sharing che la diffonderà inizio ora e puoi farne parte anche tu. Significa poter sfruttare al meglio il tuo tempo libero, divertendoti e guadagnando con gli amici. Se vuoi partire prima degli altri, chiedi subito come fare a chi ti ha mostrato questa presentazione. Ti aspettiamo con noi! È veramente un gioco che tutti vorranno provare, anch'io. Bene, ora sapete qualcosa in più? Cosa mi pensate? Beh, provate a immaginare quanti lo vorranno e anche voi potreste regalarlo. E andate su sito Social Free Life per sapere come fare. Ciao!